Ehi quanta roba io ho. Se avessi una persona che mi mettesse a posto questa roba questa. Ieri ho rivisto far l'amore alle cocorite. Che beve. Dio buono, questi ho aspettati, così tutto su misura. Io dopo morto dovrò lavorare almeno dieci anni per risistemare tutte le cosine e metterle tutti in ordine. E ho vinto il campionato nel 1976. Siamo andati a Okanai e abbiamo vinto la gara. La prima volta che sono salito su una moto grande c'era Guido con me. Quindi io ho cominciato con Guido. Da Guido sicuramente ho imparato innanzitutto la passione, perché la passione penso che sia una cosa essenziale. Mi ha spiegato un sacco di cose, soprattutto come usare il motore, perché comunque il mio tempo va usato più dolcemente. Poi sei arrivato tu a prepararmi Guido Mancini. Un meccanico come Mancini non fa il weekend per divertimento a fare meccanico. Vai là per riuscire bene. Poi è arrivato. Grazie per la visione!